Sera e bentrovati a Notizie di Prato Tg, partiamo dalla manifestazione di Forza Nuova prevista per sabato prossimo perché la riunione che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio in prefettura proprio per decidere se fare o meno questa manifestazione è saltata. Intanto si registra la posizione durissima della chiesa pratese che afferma non c'è spazio per voi rivolto appunto agli attivisti di Forza Nuova. Sentiamo Alessandra Grati. È saltato l'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza previsto per oggi in prefettura dove si sarebbe dovuto decidere se confermare l'autorizzazione alla manifestazione chiesta da Forza Nuova per sabato 23 marzo giorno in cui cade il centesimo anno della nascita del fascismo anche se ufficialmente l'evento riguarda le politiche sull'immigrazione. La motivazione della mancata convocazione non è chiara. Dalla segreteria della prefettura fanno sapere che il prefetto Rosalba Scialla, oggi fuori città per impegni istituzionali, mentre il questore di Prato non risponde al telefono. Intanto contro la manifestazione si mobilita anche il mondo cattolico che ha scritto una dura lettera ai militanti di Forza Nuova. Prato, si legge nel documento, non potrà essere la tua patria e noi non potremo permettere che tu venga a dissipare e distruggere un patrimonio culturale costruito con tanta fatica, dolore, duro lavoro, cooperazione sociale e solidarietà. Anche il sindaco Matteo Biffone, a cui non è stata data nessuna spiegazione del mancato appuntamento, ribadisce ancora una volta la sua contrarietà al corteo. Noi non abbiamo nessuna notizia. Noi, come dire, io personalmente confido molto nella attenzione e nella competenza di prefetto, questore, sono persone assolutamente che conoscono il territorio e che sanno quali sono le difficoltà, i disagi, le preoccupazioni di una comunità intera. Da un lato l'idea è che non si possono celebrare i cento anni dei fasci di combattimento perché secondo noi è contro la legge, dall'altro lato c'è il pericolo per questa città. Intanto gli organizzatori della contramanifestazione annunciano che se avranno l'autorizzazione saranno comunque in piazza delle carceri. Vogliamo dimostrare con i fatti che la città di Prato è una città aperta e che crede nei valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo. La cronaca aveva a casa una pistola intestata ad un'altra persona e quasi quattro etti di hashish e con l'arma ha ferito accidentalmente alla coscia un suo dipendente. Per questo motivo il titolare di un ristorante nella zona sud di Prato è finito in manette. L'uomo, un quarantenne italiano incensurato, si trova ora ai domiciliari su disposizione del PM Valentina Cosci in attesa della convalida dell'arresto effettuato nella giornata di sabato dai poliziotti della squadra mobile. Gli agenti sono stati attivati dal pronto soccorso dove si è presentato un trentenne con una ferita alla coscia destra sicuramente dovuta a un colpo d'arma da fuoco. I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione del ristorante trovando in un armadietto tre panetti di hashish per un peso complessivo di 363 grammi. In un campo vicino è stata invece trovata la pistola, una semiautomatica calibro 6,35. Hanno picchiato e derubato della bici un trentenne marocchino per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga ma sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia. Dovranno rispondere di rapina aggravata a due napoletani di 38 e 44 anni che ieri sera alle 21.30 tra Piazza Stazione e Via Firenze hanno fermato, picchiato e preso la bici a un nordafricano che solo pochi giorni prima li aveva raggirati vendendogli a 50 euro un involucro che avrebbe dovuto contenere cocaina ma che in realtà era vuoto. I due campani pretendevano la restituzione dei soldi in cambio della bici. In quel momento è giunto sul posto un equipaggio delle volanti che ha proceduto all'arresto dei due rapinatori e ha la denuncia a piede libero del marocchino per inosservanza del foglio di via nei suoi confronti. Anfiteatro di Santa Lucia, stanno terminando i lavori di restyling quindi a breve ci sarà l'inaugurazione e questo spazio sarà intitolato all'ex deportato Dorval Vannini, oggi il sopralluogo della Commissione 3 che abbiamo seguito. Termineranno a breve i lavori di ristrutturazione dell'anfiteatro di Santa Lucia che il prossimo 7 aprile sarà intitolato all'ex deportato Dorval Vannini e quanto è emerso oggi durante il sopralluogo al cantiere da parte della Commissione 3 presieduta da Luca Roti. L'opera mantiene la sua struttura originaria ma rispetto al passato è molto più sicura grazie a una serie di accorgimenti e cambiamenti volti a tutelare l'incolumità di chi frequenta questo spazio. Le gradinate e le otto scalinate sono state coperte da materiale antiscivolo con illuminazione specifica per le uscite di sicurezza. Inoltre il palcoscenico è stato rialzato coperto da legno e dotato di impianto elettrico per poter ospitare qualsiasi tipo di spettacolo. A proposito, per il riuso completo dello spazio manca solo il certificato di prevenzione incendio dei vigili del fuoco che stanno valutando le deroghe relative alle gradinate. Ci sono eccezioni per l'altezza degli scalini. Noi abbiamo delle scalinate da 21 gradini e quella legge prevede che superi un certo numero di gradini e occorre la certificazione dei vigili del fuoco regionale. Quindi questa è già stata prodotta alla richiesta nei mesi scorsi. I tempi non sono nostri, però una volta arrivati, si pensa intorno a fine aprile e primi di maggio, questo diventa uno spazio già fruibile per manifestazioni di teatro, di danza, di cinema, di musica. L'anfiteatro è inoltre stato recintato da ringhiere che proteggono chi frequenta il giardino, a piedi come in bici, da eventuali cadute. Il pensiero va all'agosto del 2013, quando una bambina di 9 anni si ferì gravemente dopo essere caduta da una bala austra per il cedimento della ringhiera. Da allora l'anfiteatro è rimasto inutilizzato. Poi l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un progetto di ristrutturazione iniziato oltre un anno fa e costato 250 mila euro. Il luogo dell'incidente, che è stato messo in sicurezza, è stato isolato impedendone l'accesso con un cancello. La ristrutturazione ha interessato anche i bagni e il punto ristoro che sono dotati di tre telecamere di videosorveglianza come deterrente per i continui atti vandalici di cui la struttura è stata oggetto in passato. Ora la vera sfida è far vivere questo luogo. Non appena arriverà il certificato di prevenzione incendi, l'amministrazione comunale affronterà la questione gestione per mettere lo spazio al centro della programmazione degli eventi estivi. Allerta a meteo per vento con codice giallo dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani sull'area metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, per la circolazione stradale, in particolare su viadotti e ponti. Cantiere di Publiacqua in via Mozza sul Gorone, oggi sopra il luogo della partecipata che si occupa appunto di acqua e a quanto pare ci sono notizie positive sui tempi. Sentiamo Alessandra Grati. Ancora un mese di lavori in via Mozza sul Gorone. Poi il cantiere di Publiacqua per la sostituzione delle tubature verrà smantellato. Addirittura, secondo il cronoprogramma, si registrano due settimane d'anticipo. Il nostro obiettivo adesso è lasciare via Mozza sul Gorone entro un mese da oggi, lasciando chiaramente una strada completamente rifatta. e cercando anche di intervenire, grazie al cantiere presente, già presente, su alcune piccole cose, come sbassamenti di marciapiedi, nuove griglie per la raccolta dell'acqua, quindi andando a completare un po' il lavoro. Via Mozza sul Gorone quindi tornerà a doppio senso di marcia, anche se la nuova viabilità piace a molti automobilisti. Intanto si continua a lavorare. Ci sarà un altro punto critico che è in piazza delle Medaglie d'Oro dove ci stiamo ormai avvicinando, siamo già in prossimità di quel punto, poi una volta attraversato quel pezzo ormai sarà tutta una discesa perché a quel punto anche l'impatto sul traffico, soprattutto in via Liliana Rossi, sarà piuttosto ridotto. Andremo ad aumentare la portata dell'acqua perché amplieremo il diametro delle tubature, quindi le nuove tubature saranno più grandi e soprattutto sostituiremo tutti gli allacciamenti delle varie utenze e quindi andremo a ridurre le perdite. È un cantiere comunque che continua a lavorare su doppi turni fino alle 7 la sera, a necessità è predisposto e pronto per lavorare anche la notte, cosa che cercheremo di concentrare comunque nel fine settimana per minimizzare gli impatti sul traffico. Meno scettici invece i commercianti della zona. Abbiamo avuto nei primi giorni un calo relativo, poi sempre di più, ora piano piano ci rimettiamo il sesso. E andiamo a Poggia Caiano dove Leonardo da Vinci ha bussato alla porta delle scuole poggesi. Barba lunga e grigia, costume e copricapo rinascimentale è il sorriso che rivela tutta la sua genialità. Così un redivivo Leonardo da Vinci si è presentato agli alunni delle scuole poggesi lasciandoli a bocca aperta. È il progetto Io sto con Leo, pensato dalla Proloquo e dal comune di Poggia Caiano per far conoscere la grandezza del personaggio storico alle nuove generazioni in occasione del 500esimo anniversario della scomparsa. Stamani la presentazione dell'iniziativa. Cesare Berni, storica anima della Proloquo di Vinci, ha vestito i pani di Leonardo sia per salire in cattedra nelle scuole di Poggio sia per raccontare la vita del maestro in cinque video messaggi inviati ai ragazzi ripercorrendo passo dopo passo i percorsi attraverso borghi, città e paesi che lo hanno visto protagonista da Vinci a Firenze passando anche da Poggio a Caiano. Il progetto Stiamo con Leo che è partito proprio dai genitori dei ragazzi della nostra scuola di Poggio a Caiano che hanno parlato di questo progetto al consiglio di istituto e quindi la scuola Filippo Mazzei e tutto l'istituto comprensivo ha aderito. Il progetto ha già coinvolto circa mille alunni delle scuole materne, elementari e media. Confluirà in elaborati che ogni classe 2D, 3D, video che verranno esposti alle scuderie medisce per una mostra celebrativa appunto di Leonardo. Bene è tutto, grazie per averci seguito a Notizie di Prato Tg torna domani alla stessa ora. Buona serata.